Ma l'iWatch è un cingillo straordinariamente interessante o che non serve assolutamente a niente? Salva la vita o fa solo delle notifiche? Allora, personalmente io non sono un fan degli smartwatch, non ne ho nessuno, non mi piacciono e non mi piacciono perché li trovo dei generatori di notifiche. Siccome io odio profondamente le notifiche, non me ne frega niente di avere un cingillo che mi notifichi continuamente quello che accade sul mio telefono. Le ho spente tutte le notifiche, ma non è il primo caso al mondo in cui si sente parlare di qualcuno che è stato salvato letteralmente dal proprio iWatch. L'ultimo caso, negli Stati Uniti la scorsa settimana, un ragazzo stava facendo il suo pisolino pomeridiano, dopo essersi svegliato dal pisolino, ha visto che c'erano tantissime notifiche dell'iWatch sul suo battito cardiaco, ha chiamato il medico, il medico gli ha fatto fare una visita urgente all'ospedale e gli hanno trovato un'emorragia interna. Se non avesse avuto l'iWatch sarebbe molto probabilmente morto, perché sono arrivati in tempo con la trasfusione e sono accorti del tutto proprio grazie all'iWatch. Ma sono tantissimi i casi, addirittura il cantante Eugenio Finardi è stato salvato, tra virgolette, dal proprio iPhone, dal proprio iWatch, scusate. Così come un corridore qualche mese fa, o forse qualche anno fa, che ha perso i sensi durante la corsa, è stato salvato dall'iWatch che si è accorto che era caduto e quindi ha chiamato i soccorsi. Io penso esattamente questo, che questi dispositivi siano straordinari da questo punto di vista. Non sono dei gingilli che ci devono notificare se qualcuno ci ha mandato il WhatsApp, perché francamente, chi se ne frega, sono dei gingilli che dovrebbero essere utilizzati sempre di più in ottica medica e di prevenzione. Per me questo è il loro vero utilizzo nel futuro. Lasciamo perdere le notifiche. Chi se ne frega se ci hanno mandato la foto del buongiornissimo. Pensiamo alla salute. Rock'n'roll. 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 Rock'n'roll.